Oggi voglio raccontarvi la storia di una delle piazze più celebri di Roma, una piazza che ha subito nei secoli tantissime trasformazioni, fino ad arrivare alla fine dell'Ottocento con il lavoro di Giuseppe Valadier che ha contribuito a donare quell'aspetto che tutti noi oggi possiamo apprezzare qui a Piazza del Popolo. A Piazza del Popolo Ma com'era Piazza del Popolo nell'antichità? Secondo la tradizione questo luogo ovviamente non aveva queste splendide architetture ma era immerso nella natura, era un bosco di pioppi, che tra l'altro poi secondo alcuni il nome di Piazza del Popolo deriverebbe proprio da questo albero perché pioppo viene dal latino populus, ma la presenza di questo albero in questo luogo ha un significato particolare, dobbiamo fare un viaggio con la mente, dobbiamo immaginare questo luogo immerso nella natura, pieno di alberi, magari con una leggera brezza che fa muovere le chiome di questi alberi, produce un suono che ci fa rilassare, sarebbe bello, ma questo albero, il pioppo, se noi prendiamo la foglia, è come se avesse una doppia faccia, ha una lamina superiore verde scuro, una lamina inferiore verde chiaro, quindi quasi come se avesse un lato positivo, un lato negativo, il bene, il male, effettivamente nel mito il pioppo viene considerato il confine tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Ma anche questo luogo ha avuto una doppia faccia nel passato, è stato un luogo dove si svolgeva la vita ed è stato anche un luogo di morte, non soltanto per le decapitazioni che sono avvenute qui secoli dopo, ma perché questo bosco, questi alberi con le loro chiome custodivano, preservavano la tomba di un imperatore che amava l'arte, la musica, che si è esibito come attore in un teatro fatto costruire da lui a Napoli e che è passato alla storia come un sanguinario, un folle, come un tiranno, sto parlando di Nerone, che poi la sua figura negli ultimi anni è stata anche rivalutata dagli storici perché forse sicuramente è stato un imperatore che ha avuto modo di compiere crimini orribili, ma probabilmente non è stato più crudele di tanti suoi predecessori e tanti suoi successori. In effetti prese anche delle decisioni durante il suo potere, decisioni a favore del popolo, inimicandosi l'aristocrazia, inimicandosi il senato e questo probabilmente ha fatto storcere il naso a persone che avevano determinati interessi, per questo poi la sua figura è stata così enfatizzata in modo negativo dai suoi storici contemporanei. Dunque in questo luogo c'era la tomba dell'imperatore Nerone, poi vedremo con precisione dove si trovava e questa tomba ha dato vita a una leggenda, proprio la presenza del sepolcro insieme alla presenza del fantasma di Nerone ha reso questo luogo, secondo la leggenda, un luogo maledetto, un luogo dannato che attirava presenze maligne. In effetti accanto alla tomba dell'imperatore c'era oltre agli alberi di Pioppo c'era un albero secolare di noce utilizzato da streghe e stregoni per i loro riti pagani e tra l'altro c'erano dei corvi che volteggiavano ininterrottamente intorno a questo albero. Tant'è vero che il papa dell'epoca Pasquale II, papa Pasquale II riteneva che questi corvi fossero dei demoni, dei demoni che attendevano la reincarnazione di Nerone, considerato come l'anticristo. Il papa a questo punto si ritira in preghiera per capire, per chiedere consiglio alla Madonna che gli viene in aiuto e gli consiglia di distruggere la tomba di Nerone, di disperdere le ceneri dell'imperatore nel Tevere e di abbattere l'albero secolare. E per purificare questo luogo gli consiglio di costruire una cappella. Ecco effettivamente la leggenda ha tanti punti che si collegano a episodi veritieri perché il papa Pasquale II effettivamente fece distruggere la tomba di Nerone. Ma questo perché? Perché innanzitutto c'erano persone, popolo, che ancora andava a elogiare l'imperatore, andava a omaggiare l'imperatore. Questo non poteva essere accettato insieme al fatto che molto probabilmente comunque avvenivano dei riti pagani intorno nei pressi della sua tomba e insieme anche al fatto che c'era una credenza all'epoca tra i cristiani, ovvero che l'imperatore Nerone fosse considerato l'anticristo. Questo perché c'erano degli indizi nell'apocalisse dell'apostolo Giovanni che poi verranno ripresi da Sant'Agostino nel suo Decivitate Dei che fanno pensare proprio a Nerone come l'anticristo. La cappella che la Madonna aveva consigliato di far costruire a papa Pasquale II effettivamente verrà costruita nell'anno 1099 ma non per purificare questo luogo ma molto probabilmente per celebrare la vittoria dei crociati, la liberazione del santo sepolcro avvenuta proprio nell'anno 1099 e quindi verrà costruita questa piccola cappella con i soldi del popolo che sarà il nucleo originario di quella che poi dopo tante trasformazioni, dopo tanti secoli sarà la Basilica di Santa Maria del Popolo. Grazie a tutti.